Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video Oggi ci dedichiamo ai trigger liquidi, suoni liquidi Era in realtà una richiesta che mi era stata già fatta un paio di volte Finalmente oggi riesco ad accoglierla Ci sono infatti dei trigger che sono tra i preferiti In linea generale sto parlando ad esempio delle ampolle Quindi per tu che sei amante delle ampolle sei nel video giusto Allora volevo fare una premessa Mi vedete così preparata rispetto agli altri video Perché ho voluto registrare dopo tanto tanto tempo che avevo questo desiderio Una get ready with me E l'ho fatto in realtà però su TikTok Quindi se non mi seguite lì andate assolutamente a vedere almeno questo video Perché mi sono impegnata, ci ho messo un'oretta circa Anche se non è chissà quanto è editato cose simili Perché ripeto non sono molto brava né in questa tipologia e né tantomeno a truccarmi Ma chi mi segue da molto già sa queste piccole cose Però mi farebbe molto piacere un commentino qualcosa su quel video Quindi poi se volete qui sotto nella descrizione vi lascio i link agli altri miei canali Detto questo però passiamo adesso al nostro video Facciamo tutti gli smr liquidi Non potevo non iniziare con le nostre amate ampolle Vi ricordate che io le ho rosa Sono proprio le mie prime ampolle Ce l'ho da quando ho iniziato a fare smr Quindi ce l'ho da più di un anno E quindi niente Facciamo smr con le ampolle Facciamo smr con le nostre amate 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora lo faccio, non so se mi spiego. È tipo uno di quei trigger dove devo concentrarmi. Bene, direi che adesso possiamo passare a un altro dei trigger molto amati. Dovinate di cosa sto parlando? Di lui, il contagocce. Ricordo, per chi magari non lo sa e non mi segue, che qui dentro c'è acqua. Eh sì, è il contagocce dove prima c'era il siero di astra. Ma io lo utilizzo adesso per fare sml. No. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. appoggiamo questo allora vorrei ringraziarvi grazie per essere arrivati fino a qui in realtà grazie siamo arrivati a 2700 qui su youtube non vedo l'ora di crescere tanto tanto soprattutto anche di raggiungere i 3000 perché è già un bellissimo traquarto e forse tra un po' di giorni arriveremo anche a 25.000 su tiktok detto questo fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro tag preferito di questi qui liquidi e vi do un bacione fortissimissimo ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video ciao